Cosa aspettate dall'epoca? L'esibizione a Milano sta lavorando molto bene. Siamo molto felici per non solo il numero delle persone, ma anche per la qualità delle attenzioni, che sono molto alta. L'esibizione, l'esibizione, l'esibizione è diventata molto meglio e meglio. L'esibizione ci ha dato la possibilità di mostrare per un altro tempo il potere reale delle brand Moretto nel mercato. Siamo presentati alcune novità durante il show? Come per ogni esibizione internazionale, il gruppo Moretto presenta molte notizie, anche nel feed-in, nel sistema supervisore, anche in un progetto molto forte, in ogni tipo di mercato. Siamo sempre in la prima posizione, dal punto di vista del cliente, in quanto riguarda le notizie. Questo è il motivo per cui il cliente è venuto a noi e ha guardato le notizie, in quanto riguarda le notizie, in quanto riguarda le altre persone nel mercato. Passando a punto di vista del business, per esempio, io diria che stiamo rewriting il codice per il business worldwide. Ora le opportunità si muove in diversi tipi di paesi. E in oggi tutte le compagnie, come Moretto, hanno chiesto di cui è la peculiarità. In oggi, c'è una grande esibizione in Brasile durante questa settimana, dove stiamo in grado, con molti tanti, e anche qui in Milano. Quindi, stiamo andando dove c'è l'opportunità. Questo è il segreto.